Ben ritrovati ragazzi siamo pronti per una nuova lezione di storia oggi affronteremo un argomento nuovo vi ricordate che è da un po' di tempo che stiamo analizzando i primi secoli dopo l'anno 1000 e stiamo saltando un po' avanti e indietro abbiamo visto per esempio gli ordini mendicanti poi le crociate adesso facciamo un ulteriore salto indietro e ripartiamo più o meno dall'anno 1050 però questo sarà l'ultimo salto indietro che facciamo da qui riprendiamo la storia e proseguiamo fino al 1348 allora anno 1054 cosa succede? succede una cosa molto particolare a livello politico religioso cioè la chiesa d'oriente e la chiesa d'occidente cioè la chiesa governata e guidata dal vescovo di Roma chiamato Papa e la chiesa comandata e guidata dall'arcivescovo di Costantinopoli cioè il patriarca hanno da ridire l'una con l'altra perché ci sono delle questioni di fede alla base quindi delle questioni prettamente religiose ma ci sono anche delle condizioni politiche delle situazioni politiche la chiesa d'occidente come abbiamo visto aveva molto a cuore il potere temporale il potere effettivo, materiale il potere da re invece il patriarca di Costantinopoli si rivolgeva solamente alle questioni teologiche o cultuali quindi che riguardano il culto che riguardano le cerimonie e tra oriente e occidente ci sono delle diversità importanti per esempio la lingua da una parte il rito in latino dall'altra parte il rito in greco e questo determina anche un cambiamento proprio nel cerimoniale non sempre tutte le funzioni o i sacramenti si svolgono nello stesso modo non viene richiesta sempre lo stesso grado di adesione alla vita evangelica o religiosa o comunitaria insomma ci sono delle diversità nel 1054 tutto questo si risolve in una scomunica reciproca cosa vuol dire? l'arcivescovo di Costantinopoli scomunica l'arcivescovo di Roma il Papa il Papa, cioè l'arcivescovo di Roma scomunica l'arcivescovo di Costantinopoli cioè il patriarca questo fenomeno viene passa alla storia con il nome di Grande Scisma appunto dell'anno 1054 questo scisma cioè questa divisione non verrà mai più ricucita e genererà appunto la chiesa cattolica ad occidente cioè Roma e la chiesa ortodossa a Costantinopoli ecco abbiamo avevamo già parlato però di questo periodo vi ricordate la prima crociata del 1095 quindi di 40 anni dopo avevamo già visto che comunque dopo le crociate il Mediterraneo è spaccato tra parte occidentale e parte orientale ecco una delle delle motivazioni originali di questo distacco è da vedersi anche in questo grande scisma in questo fenomeno di divisione fra le due chiese da questo momento in poi non ci occuperemo principalmente della chiesa di Roma cioè della chiesa cattolica e del papa nel 1073 cioè 20 anni dopo il grande scisma sale al soglio pontificio un papa molto molto importante di cui abbiamo già parlato ma che adesso parleremo più diffusamente di cui adesso parleremo più diffusamente questo papa si chiama Gregorio VII un papa famoso per tantissimi aspetti del del suo papato non solo per quello politico che vedremo ma per esempio per aver riformato il calendario Gregorio VII si accorge per esempio che la Pasqua è andata troppo in là la Pasqua non si festeggia più in primavera si festeggia si festeggia in un'altra stagione quindi mette di nuovo a posto il calendario si accorge per esempio che siccome non erano stati contati tutti tutti gli anni bisestili non erano mai stati aggiunti un giorno ogni quattro anni si era sfasato tutto il calendario di origine romana in un'altra stagione quindi lo rimette a posto va a fare anche tantissime altre innovazioni abbiamo detto soprattutto però che promulga un documento molto 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 importante il dictatus pape cioè le sentenze del papa o ciò che ha detto il papa in questo dictatus noi abbiamo visto per esempio che Gregorio affermava la predominanza del papa rispetto agli altri re ecco dice che il papa ha il diritto di scomunicare anche il regnante e i sudditi di un regnante scomunicato non hanno più il dovere di obbedire al al re cosa vuol dire se il papa scomunica un re i sudditi si possono appellare al papa cioè alla chiesa al clero per non obbedire al re quindi questo è molto importante come come presupposizione vuol dire che il papa sostanzialmente ha un deterrente cioè qualcosa che può che può mettere in atto per per impedire al re di governare ecco il dictatus pape è del 1075 qualche anno dopo qualche anno dopo la scomunica verso il regnante diventerà effettiva perché in questo in questo frangente storico in Europa stiamo attraversando una fase che passa alla storia con il nome di lotta per le investiture che cos'è la lotta per le investiture allora l'investitura noi l'abbiamo già vista è la cerimonia con cui viene viene nominato un cavaliere l'investitura però veniva fatta veniva celebrata anche con con un vescovo conte perché vescovo conte perché ormai non c'è differenza tra essere un vescovo e essere un conte vi ricordate i conti erano stati creati da da Carlo Magno istituzionalmente una parola che deriva dal latino comes che vuol dire compagni sostanzialmente ed erano quei quei vassalli primi che aiutavano il re ad amministrare a gestire lo stato gestire la corona i vescovi durante il meduevo soprattutto in ambito cittadino fanno esattamente la stessa cosa cioè svolgono esattamente le stesse funzioni di solito la città ha come struttura principale nel suo centro una torre l'abbiamo visto che è derivata da un sistema torre ricetto questa torre nel periodo alto mediovale ma attorno all'anno 1000 inizia ad essere occupata sistematicamente soprattutto in Italia da un vescovo cioè il vescovo risiede in città risiede nella torre e quindi diventa anche il difensore della città e non solo il difensore spirituale o politico l'effettivo difensore militare cioè diventa una carica pubblica quindi la differenza tra conte e vescovo in questo periodo era molto molto labile però c'è da considerare che effettivamente il vescovo è investito di tutta una serie di poteri oltre che temporali chiaramente anche spirituali senza scomodare il fatto che possa predicare messa o possa dare i sacramenti il vescovo è colui che coordina la diocesi cioè il rappresentante del papa all'interno di una diocesi comunque ritornando alle investiture come funzionava? intorno all'anno mille in questo periodo storico che stiamo affrontando adesso tanto l'imperatore quanto il papa potevano nominare i vescovi cioè investire i vescovi questo aspetto non andava tanto bene al papa prima di tutto perché l'imperatore di norma nominava dei vescovi che non avevano niente a che fare con la vita del clero cioè con la vita evangelica ma che erano semplicemente degli uomini militari o degli amministratori molto abili che venivano messi dal re venivano collocati in posizione in posizione favorevole appunto per l'amministrazione o la gestione di una determinata regione o di un determinato territorio il vescovo però deve fare anche altro perché in questo periodo l'abbiamo visto c'è la spinta al monachesimo ci sarà da qui a un secolo la spinta verso gli ordini mendicanti proprio perché tutti riconoscono che il clero è troppo corrotto il clero è troppo legato alla vita temporale anche per questo motivo chiaramente perché se abbiamo dei vescovi nominati dall'imperatore che sono nient'altro che uomini politici possiamo capire che un uomo politico per interessi per denaro possa decidere un'alleanza o possa gestire il territorio in una determinata maniera mentre al vescovo viene riferita sempre l'autorità religiosa ecco questa questa lotta per le investiture diventerà aspra appunto tra Gregorio VII che è il papa e Enrico IV che è l'imperatore un'imperatore che visse molto a lungo governò per 50 anni dal 1056 al 1106 ed ebbe una vita molto particolare come vedremo allora Gregorio VII siamo partiti dal fatto che nel 1076 decise di scomunicare di scomunicare Enrico IV perché non riconosceva il suo diritto unico o supremo alla nomina dei vescovi Enrico IV in primo momento sottostà questa scomunica solo che poi si accorge che effettivamente determinati sudditi si appellano al papa affinché possano non obbedire ai suoi comandamenti ai suoi ordini proprio come aveva detto come aveva affermato Gregorio VII nel dictatus quindi dopo qualche mese decide di scendere in Italia e chiedere la soluzione al papa chiaramente la scomunica non era qualcosa di che non si non poteva essere cambiato non poteva essere revocato di irrevocabile bisognava guadagnarsi il perdono e fare la penitenza l'imperatore scende in Italia il papa in quel momento è a Canossa da da una sua legata Matilde che comunque governa sulla Toscana Matilde l'imperatore arriva presso la residenza di Canossa si inginocchia e aspetta l'udienza del papa si inginocchia coprendosi il capo di cenere che è il tipico gesto di di pentimento il papa lo fa aspettare tre giorni secondo la leggenda addirittura nevicò pure durante quei tre giorni quindi l'imperatore aspettò nella neve in ginocchio nella neve che che papa Gregorio gli desse gli concedesse udienza dopo questi tre giorni convoca il re lo fa entrare nella residenza di Canossa e e lo perdona quindi gli revoca la scomunica Enrico quindi ritornato riabilitato dal papa sottomette nuovamente tutta una serie di suoi feudatari che si erano ribellati al suo governo proprio perché scomunicato li li riporta sotto il suo controllo e riprende a fare l'imperatore esattamente come prima cioè anche nominando continuando a nominare nominare vescovi di propria mano a quel punto il papa non lo sopporta più nel 1080 lo scomunica nuovamente cioè dopo solo gli altri tre anni l'imperatore verrà scomunicato di nuovo solo che Enrico IV questa volta si fa furbo non fa più come l'altra volta che dice eh però adesso vediamo un po' come va se i miei sudditi mi continuano ad ascoltare bene se no facciamo qualcosa fa un passo più avanti del papa di Gregorio eh decide di nominare un un monaco in questo in questo periodo tutti i papi quasi tutti i papi sono monaci Gregorio VII è è coluniacense è un monaco coluniacense comunque decide di nominare tal Guiberto eh antipapa cioè papa di riflesso eh Guiberto salirà al soglio antipapale eh con il nome di Clemente III eh e in questo periodo quindi ci sarà un'aspra contesa tra il papa e l'antipapa per l'effettivo primato evangelico e spirituale in Europa e sarà una situazione molto molto particolare che si protrarrà per circa mh 30-40 anni in Europa con questa situazione degli antipapi e vedremo anche che che proseguirà anche nel corso del Medioevo questa situazione con imperatori scomunicati e papi nominati dagli imperatori comunque eh per concludere il discorso sulle lotte dell'investitura dobbiamo andare oltre la vita di Gregorio VII ed Enrico IV dobbiamo giungere fino all'anno eh 1122 in cui Enrico V e Papa Callisto II si mettono d'accordo sulle investiture e in un concordato a Worms cioè una città della Germania famosissimo celeberrimo eh questo concordato di Worms decidono come deve svolgersi il cerimoniale di investitura di un vescovo quindi viene detto che ci va prima una nomina papale quindi una nomina spirituale e poi una nomina temporale cioè una nomina da parte dell'imperatore questo questo aspetto del cerimoniale darà molto potere al papato perché effettivamente avere la precedenza cronologica sull'investitura voleva dire che tutti quelli che poi l'imperatore avrebbe potuto nominare conti o vescovi erano comunque avevano avuto il beneplacito papale e pertanto da questo momento in poi come abbiamo già visto anche in altri aspetti il papa diventerà più importante anche dell'imperatore bene con questo è tutto ci risentiamo presto buon lavoro a tutti ragazzi